Tutti tuoi! E fare un bumma! Guardate, guardate il povero chiuso là queste cumbine! Una famiglia distrutta! Guardate, guardate! Questi non sono mai più in grado di mangiare loro su! Ma con quello povero che attacca c'è un po' che fa una poche spese l'ho mangiata così qua! E come si dice? Una casa che è roba, se vuoi dire, è nata a presa! Ma i ciavalli sono stessa spesa! Ehm... 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 Guardate! Ehm... 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 Entrate, dottore! Entrate! Ehm... 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 Buonasera! Buonasera! Ehm... Dottore, questo è lo scemo! Ehm... Questo è mio marito! Ehm... Mia madre! Molto piacere! Ehm... Molto piacere! E io sono Alessandra! Piacere! Già! Piacere! Un bello gioco! Un bello gioco! Un bello gioco! Dottore! Dottore! Mi dica! Ma lei tu mi lavora? Ma beh... Lavoro in policlinico! Ah sì? Ah... E' specialista in... Che cosa? Lavoro! 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 Si accommi dottore! La prego! Ma io lo conosco al... Signore! Lui è l'attore... Di Maio! Sì! Ha visto tutti i suoi... Film! Tutte le sue cose! Ma... Sa proprio... Lo vedo male! Dottore! Noi siamo disperati! Siamo disperati! Lui ha avuto un incidente! Bumma! Sotto... Il fulmino... Il fulmante... Il tram... L'aereo... Bumma! E' un bumma! Sceno! Sceno è diventato! E' caduto! E' stato investito! Non capiamo niente più! Capitano della nave! Capitano della nave! Capitano... Capitano Cino! Capitano Cino! Capitano Cino! Capitano... Eh... Alessandra! Piangi! Piangi in braccio al Dottore! Tutto! O'è la mansa? E' friagata l'acqua! I paponi! Ti 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 ti! Vediamo di fare qualcosa! Penso che comunque... Potremmo fare qualcosa! Penso che il paziente può anche guarire! Eeeh... Scusate! Ma io penso che la dobbiamo chiudere! No, va bene! Ma... Ma... Ma se uno fa... Ma se si chiude è meglio! Bumma! Bumma! La nave! La nave! I pirati! Bum! 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 Noi dobbiamo tenerla a casa! Il padre delle mie bambine! Di mio figlio! E... Però lui sta male! Dice tutte le cose senza senso! Non guarisce! Dottore! Io penso che non guarisce! Penso che... Io sono preso per il papà! Papà! Eeeh... Che ti? Papà! Sì! Ma non sono così! Voglio secondarli pure! Papà! Ah ah! Sì! Sotto! Ehi! Sotto! Sotto! Sì! Sì! È bello! Caldo caldo! Però lei è piano piano! Piano piano! Piano piano! È buono! No? Eh! Eh... Eh! Eh! Eh... Eh! 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 Ma... 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 mi dispiace io le signore le rinnovo e saluti arrivederla arrivederci signore arrivederci fai dannata a vedere pure mia io ho lasciato anche il numero di cellulare sulla recensione oi il senso cosa mi sa di sapere signor Nimaio no ma queste sono cose che vanno ma ci lasciatele che a niente li trovo a ballare ma queste sono proprio una famiglia di cine la 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 laí la 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 vada perciò sta ooo pchiy buba b l Grazie a tutti.